Sono Maserati della Polizia Locale di Milano in forza al Nucleo Tuttele Animali della Polizia Locale di Milano. In relazione alla problematica che è emersa il 5 di maggio, ossia il fatto che il Falco Giulia è rimasta impigliata nella rete a protezione del cantiere sulla Torre Galfa, si è cercato di porvi rimedio in qualche modo. Ci siamo confrontati con la proprietà della Torre Galfa, con Regione Lombardia e con Selvatica Milano e la soluzione più idonea è stata quella di posizionare in copertura e in corrispondenza di queste reti due telecamere che ci permettono di monitorare H24 il luogo. Dato che sono telecamere con sensori che rilevano il movimento, in qualsiasi momento in cui ci dovesse essere una problematica legata a un nuovo incastro da parte dei falchi pellegrini del grattacielo Pirelli, arriverà un alert sul sistema che monitoriamo attraverso dei cellulari che ci permette appunto di prendere atto della situazione e attivare tutte le procedure per un immediato soccorso all'animale. Noi appunto con una app sul cellulare di servizio riusciamo in tempo reale a monitorare la situazione. Ecco questo qua è praticamente ciò che noi vediamo dal nostro strumento, il nostro cellulare, si sta collegando. Ecco in questo momento noi abbiamo monitorata la situazione, possiamo comunque avere anche uno zoom che ci permette di vedere anche le parti più lontane e ribadisco ogni qualvolta viene rilevato un movimento di qualsiasi genere vi è una registrazione di quel momento che ci permette appunto di... e in più arriva un sonoro, un cicalino, con un cicalino ci viene indicata la cosa. Noi verifichiamo e ribadisco nel caso in cui ci fosse il problema attiveremmo le procedure come è successo nell'occasione del 5 maggio quando il Falco Giulia è stata salvata dagli operatori EMPA. Ecco questa è insomma la situazione che ci ha permesso di garantire ai Falchi il fatto che se dovessero rimanere incastrati verrebbero immediatamente salvati e rimessi nel loro ambito.